L'entrata in campo, qua a Centobuchi, frazione di Monteprandone, Nellemarche, provincia di Ascoli Piceno, per il 14esimo Piceno Cup di calcio giovanile, Virtus Castelfrentano, un misto allievi giovanissimi contro Borgo Roselli di Porto San Giorgio. E' la prima gara da parte nostra, domani ritorneremo sempre qua, il direttore di gara della locale Sezione Aia, andate a salutare per le bambine. Oh scusi, mister, ma non vanno a salutare i nostri? Non vanno a salutare la panchina i nostri? In bocca al lupo ragazzi!